Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi facciamo un approfondimento nel contesto della pesca spinning e parliamo delle esche artificiali. In questo viaggio, alla scoperta di questo mondo molto interessante, abbiamo con noi un nuovo compagno di viaggio che introduco subito, senza perdere tempo, do il benvenuto qui su Planet Spin al nostro nuovo amico Mattia Famoso. Mattia, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera per me adesso. Salve a tutti, io sono Mattia Famoso. Velocemente, non perdo tempo a parlare di me, intanto grazie Luigi per l'invito, grazie Luigi per la pazienza avuta, perché comunque incrociare i tempi di entrambi è difficile. Allora, rapidamente, chi sono io? Io sono un testimone per Raptor, qui nella Sicilia orientale, e sono uno scrittore per il blog di Roberto Accardi nella sezione spinning, oltre che ogni tanto faccio qualche video sporadico, quando mi capita di avere il tempo di avere il logo prodotto appresso e montare qualche video. Poi sì, ogni tanto pesco a spinning. Allora, grazie Mattia per la tua breve presentazione. Sì, esatto. Ovviamente, buonasera a chi si collega di sera, buongiorno a chi si collegherà di giorno, in qualsiasi momento, ecco. Allora, andiamo subito all'argomento di oggi. Come abbiamo anticipato, l'argomento sono le esche artificiali, l'esche artificiale nella pesca spinning, è un mondo tanto vasto in cui... No, Mattia, ci sarebbe da dire davvero, davvero tanto, no? Non fu troppo. Il rischio di andare fuori contesto è molto alto, anche per questo ci faremo aiutare nel nostro viaggio da un documento che, ecco, ci farà un po' da linea guida, no? Il nostro documento, un PowerPoint con delle slide, che ci aiuterà sia a noi che spiegheremo man mano, andando avanti, di cosa stiamo parlando, e farà capire anche agli utenti che si possono collegare nei diversi capitoli del video, che poi verrà suddiviso direttamente sul nostro canale YouTube, possono andare direttamente a vedersi la parte che più gli interessa. Facciamo partire subito la nostra presentazione. Senza ruolo di tamburi. Sì, 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 dai, oggi andiamo dritti sul punto. Ci tenevo a dire giusto una cosa, prima di iniziare, che purtroppo nelle esche artificiali e nelle varie tipologie di pesca di recente introduzione nel panorama della pesca, non solo spinning, si utilizzano degli inglesismi, ovvero sono delle parole che vengono, non vengono tradotte, ma derivano un po' dall'inglese, come la parola spinning, in qualche modo. Ok, quindi questo qua, che cosa vuol dire? Che cercheremo il più possibile di evitare questi inglesismi, ma per alcuni contesti, Mattia, sarà davvero difficile, per cui, al momento in cui abbiamo deciso di imparare, dovremo anche assumere, assimilare questi concetti, per meglio anche comprendere e definire che cosa intendiamo, perché con questi inglesismi, ecco, è molto più facile e intuitivo capire di cosa stiamo parlando. Apro una piccola parentesi, molti di questi inglesismi, e lo vedremo più avanti, sono spesso delle onomatopee. Di conseguenza, grazie alla parola stessa, si capisce, tra virgolette, il suono dell'artificiale e da lì si definisce l'artificiale stesso. Prendo un esempio, anticipiamo, un fast forward, il popper. Si chiama popper perché poppa, perché fa quel rumore di pop, pop, anche questo, eccetera, eccetera. Lo vedremo più avanti. Gli inglesismi non sono i nostri nemici, eh? Capitiamone chiaramente. No, perché è giusto, nel momento in cui decidiamo di introdurci in questo mondo che è così vasto, dobbiamo anche iniziare a familiarizzare con queste parole e queste terminologie. Partiamo, finalmente partiamo. Allora, le esche artificiali nella pesca a spinning in mare e acqua dolce, praticamente intendiamo il panorama degli habitat a 360 gradi, sia quelli costeri, pesca a spinning in mare, che di acqua dolce, quindi gli artificiali che possono essere utilizzati nei fiumi, nei laghi, nei torrenti, includendo anche gli habitat salmastri, come le lagune o l'interno delle foci, che sappiamo bene, Mattia, essere frequentate dalla nostra amica Spigola, che risale fino a qualche chilometro all'interno dei fiumi, e che è uno dei predatori più ambiti dai pescatori dell'ossipale e non solo. Ah sì, perché è molto intelligente, estremamente intelligente, lo spiego con pesce d'esperienza, diciamo. Esatto, esatto. Tempo fa mi creai una definizione puramente personale, meno di esca artificiale. Per quanto sembra scontato l'esca artificiale, altro non è che un oggetto, un'esca innaturale, atta successivamente a stimolare eventualmente l'attacco di un pesce, che può essere per nervosismo, che può essere per fame, può essere per territorialità. Comunque questa, a breve, in breve, potrebbe essere una prima definizione di esca artificiale. Dopo, successivamente, sappiamo che da questa macro definizione possiamo andare poi a tirare delle categorie, e poi successivamente delle sottocategorie, che si dividono in altre sotto-sottocategorie, che vanno a subentrare altre sotto-sotto-sottocategorie, non finirà mai. Però intanto è giusto avere questo concetto dietro, no? Assolutamente sì, e ti ringrazio per questo appunto. Interrompimi quando vuoi per dare i tuoi suggerimenti, che sei qua, soprattutto per questo. Allora, ritorniamo al nostro documento, e facciamo una prima classificazione, secondo tre caratteristiche che in qualche modo accomunano tutte le esche artificiali. Tutte le esche devono appartenere ad una o a più categorie. Nel documento le abbiamo identificate, secondo queste tre tipologie, il materiale di costruzione, poi ne approfondiremo in seguito, tutti i dettagli. Il materiale di costruzione, la tipologia di affondamento e la presenza di un rattling interno. No, Mattia? Queste sono le prime tre categorie principali, da cui... In realtà dovremmo definire ancora prima che la categoria principale viene definita da un tipo di materiale, no? Poi da lì si definisce la sottocategoria che è l'affondamento. Ulteriormente si può definire un'altra sottocategoria che è il rattling. Quindi sono tre cose, una collegata all'altra. La sommatoria di queste tre cose ed eventualmente altri fattori poi ci dà la classificazione quanto più reale possibile dell'artificiale che abbiamo eventualmente in mano o in negozio da acquistare. Esatto. Inoltre, aggiungo, che in questo primo appuntamento di approfondimento sulle esche artificiali, noi cerchiamo di andare il veloce il più possibile nel perlomeno capire a che famiglie appartengono, le caratteristiche comuni, eccetera. Poi nei prossimi video eventualmente anche aspetteremo le vostre risposte, le risposte dall'utente, se è di vostro interesse o meno questo format tech che intendiamo portare avanti. Quindi approfondiremo sempre di più per alzare sempre l'asticella, no? E crescere e migliorare insieme magari anche aspettando i commenti e suggerimenti che potrete dare tramite i vostri commenti al video direttamente sul canale YouTube. Oppure lasceremo in descrizione anche i contatti di Mattia eventualmente per un contatto diretto tramite i social. Sì, sono sempre disponibili a domande soprattutto nei social. Sono più veloci di rapida fruizione quindi si può sono sempre disponibili. Ok. Allora, andiamo avanti e capiamo che quando parliamo di materiale in effetti subentrano altre sottocategorie come dicevamo in precedenza, no Mattia? Il discorso di avere un'esca artificiale rigida la andiamo a collocare in altre sottocategorie e in questo contesto parlando appunto del materiale abbiamo identificato insieme 5 famiglie hard bait, soft bait esche metalliche wire bait e ibride come dicevamo in precedenza abbiamo inserito gli inglesismi per ecco comprimere al massimo una tipologia ma anche perché eventualmente ci troviamo a fare qualche acquisto online parlando di hard bait capiamo che si tratta di esche rigide infatti la parola hard bait andando a tradurla vuol dire hard sta per rigido bait sta per esca come allo stesso modo soft bait soft sta per morbida e bait sta per esca in in tante guide che possiamo trovare in tanti articoli che possiamo trovare sul web e su carta stampata anche in effetti non ci sono tutte queste sottocategorie no Mattia perché anche in merito ad alcune famiglie che abbiamo inserito qual è la motivazione per cui le abbiamo scomposte ad esempio no si ad esempio qual è stato il nostro primo micro dibattito no la scomposizione tra l'hard bait e il metal il metal jig no perché diciamo ma se l'hard bait è banalmente un'esca rigida dal guscio rigido perché il metal jig non dovrebbe essere inserito all'interno di queste categorie banalmente perché a livello puramente fisico non parlo a livello fisico tangibile proprio a livello fisico di calcolo fisico quello che è il metal jig ha delle proprietà totalmente differenti rispetto a qualunque altra art bait basti pensare banalmente alla densità delle leghe metalliche che vengono utilizzate rispetto a tutte quelle che sono poi invece i polimeri le resine e eventualmente legni eccetera eccetera che invece vanno a comporre le art baits proprio a causa di questa differenza totalmente antitetica delle proprietà fisiche dei materiali utilizzati non è possibile a mio avviso tenere art baits e metal jig all'interno della stessa categoria sono a mio avviso delle categorie da dividere da analizzare in maniera separata sì a questo io volevo aggiungere che attualmente il mercato e le aziende di di produzione realizzano continuamente tante esche quindi assimilarle tutte ad un solo ambito ad una sola famiglia secondo me attualmente non è più possibile come stanno nascendo tante sottocategorie di tecniche di pesca allo stesso modo è giusto iniziare a fare una grande scrematura una grande selezione delle sottocategorie anche di esche artificiali perché le esche artificiali sono proprio il cuore pulsante del nostro sistema di pesca quindi è in base alla tipologia di esca che noi potremmo fare o meno alcune tipologie di recupero alcune tecniche o insidiare dei predatori specifici poi ora diamo delle indicazioni di massima poi nel corso dei prossimi video quando facciamo degli approfondimenti andremo anche a capire la tecnica di recupero di alcune esche il modo di utilizzare le condizioni magari meteomarine oppure delle colorazioni dell'acqua per quanto riguarda anche i colori e in modo da essere maggiormente efficaci in pesca e dare dei suggerimenti utili sia a chi da poco si sta avvicinando alla pesca spinning ma anche a già chi è già tecnicamente più esperto per dare anche degli spunti di miglioramento ritornando al nostro documento in base al materiale faccio un passo indietro la classificazione è stata fatta secondo tre principali punti ora stiamo approfondendo il materiale il primo punto in base al materiale l'abbiamo suddiviso in cinque sottocategorie sotto categorie nella categoria hard base facciamo riferimento a tutte le esche rigide che sono realizzate possono essere realizzate in plastica in legno in resina e poi le andremo a definire meglio nei dettagli quali sono le tipologie invece in base al nostro documento per fare un riepilogo anche sulle soft base quindi le esche morbide le possiamo trovare in gomma in resina siliconica e anche in questo esatto esatto quindi ne ho aggiunte alcuni per non fare un elenco eccessivamente lungo scendo ancora le esche metalliche che sono solitamente in zinco tungsteno in piombo e altre leghe inoltre troviamo possiamo trovare come famiglia di esche artificiali le wire baits ovvero quella tipologia di esche che sono composte da un filo metallico anche in questo caso le vedremo poi in conclusione possiamo trovare le esche ibride che sono un po' una novità soprattutto degli ultimi anni perché sono esche composte da più materiali facciamo un esempio possiamo avere un corpo una testina in metallo in piombo o con un appendice siliconica faccio un esempio per farvi rendere conto perché impropriamente tante volte nella categoria soft debates viene inserito il classico il classico black men il classico non volevo sì senza fare marchetta però chi non conosce esatto però impropriamente noi abbiamo inserito il black men nel soft debates nel nel comune linguaggio ma in effetti si tratta di un'esca ibrida che poi possiamo anche comporre perché possiamo variare la forma il peso la grandezza della testina e annettere un corpo più o meno ampio di forme dimensioni caratteristiche diametramente opposte e anche in questo caso ecco è giusto fare questa suddivisione perché il mercato attuale necessita di essere maggiormente compreso ed ampliato no Mattia sì 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 concordo concordo perché è giusto conoscere perché per scegliere bisogna conoscere vedo e ricordo di me stesso di quando iniziai a pescare spinning e acquistare le prime artificiali le prime cose totalmente da solo totalmente per virgolette ignorante di quello che stessi andando ad acquistare così mi avventurai ad acquistare i primi artificiali molti dei quali poi sono rimasti inutilizzati nel tempo perché rivelateci delle scelte sbagliate oggi avere uno strumento come anche questo per esempio questo piccolo video che stiamo cercando di fare può essere d'aiuto ad altri affinché si possano poi muovere orientare per cercare di fare l'acquisto giusto perché la conoscenza è importante di quello che si fa sono d'accordissimo allora faccio di nuovo un passo indietro per far capire meglio come stiamo evolvendo in questo piccolo video di approfondimento siamo partiti dalla classificazione siamo arrivati alla tipologia di materiale andando avanti ne abbiamo abbiamo capito abbiamo spiegato che ci sono cinque tipologie cinque famiglie per quanto riguarda il materiale e ora andiamo a definire singolarmente queste famiglie partiamo dalle esche rigide facciamo una prima sgrossatura senza andare a specificare i modelli perché di questo ne parleremo nei prossimi video di approfondimento e Mattia ti lascio la parola per definire ecco quelle che sono le heartbates ah incominciamo vabbè incominciamo banalmente dalla parte superiore dello strato d'acqua il top water torniamo agli inglesismi cosa vuol dire top water banalmente dall'inglese on top of the water quindi sulla superficie dell'acqua quindi di base un heartbate che si muove un heartbate top water sarà un qualunque heartbate che si muove negli strati più superficiali d'acqua e non nei primi centimetri proprio sulla superficie perché un artificiale che già si muove al di sotto della superficie dell'acqua anche di pochi centimetri non è più un top water stiamo già parlando di altre tipologie di eschi poi abbiamo il lipless abbiamo inserito il lipless che hanno hanno tantissime diramazioni perché anche loro hanno un'infinità di utilizzi in base al tipo di affondamento il lipless tendenzialmente possono essere sia top water possono essere floating possono essere affondanti possono essere semi affondanti possono essere di tantissime categorie sono delle esche estremamente polietriche sempre le vedremo in futuro abbiamo i darter che sono delle esche rigide predisposte di una paletta che fa parte del corpo stesso quindi una paletta tutta ad un pezzo poi avanti spiegheremo anche che è questa paletta abbiamo il minno il minno che è banalmente quello che tutti chiamano il pesciolino è sempre cos'è il minno minno in inglese vuol dire letteralmente pesciolino quindi si tratta di un'esca che possiede una paletta un'esca rigida che ha un movimento proprio anche anche con un semplice recupero lineare fermami tu quando per qualunque cosa Luigi vai perché se no vado a ruota libera all'infinito si si vai avanti facciamo diciamo una panoramica non ci approfondiremo in questo in questo video sta andando benissimo poi abbiamo le jerkbait che molti confondono con i minno spiegheremo qual è la differenza tra una jerkbait e un minno vi dico che esteticamente si presentano spesso se non uguali quasi identiche quello che cambia è l'inclinazione della paletta la superficie di contatto della paletta e il bilanciamento della massa ma lo vedremo più avanti abbiamo il crankbait che sono sti crankbait sono sempre delle specie di minno un po' più ponchiolotti chiamiamolo così con delle palettine che hanno delle caratteristiche specifiche e che possono muoversi sempre su diversi strati d'acqua sempre in codipendenza della densità stessa dell'artificiale della palettina e questi sono degli artificiali che sono un po' più tozzi ma che fanno davvero tanto casino ok sempre crank capite quello che dicevo prima l'onorato pega è il crank questo rumore questo fastidio poi abbiamo lo snodato lo snodato che può avere una palettina può essere un un lipless ma banalmente già per come si capisce si tratta di un'esca che non è tutta unica ma che ha delle parti separate collegate poi da delle cerniere da dei collegamenti che fanno in modo che questa esca possa muoversi in maniera più o meno sinuosa il propate è per esempio un'esca che io conosco poco perché nasce per gli acqua interne ad esempio quindi questa è un'esca che praticamente viene quasi del tutto utilizzata nel bus fishing è un'esca quella con l'elichina avanti per rintender di cosa stiamo parlando però nello stile giapponese o japan style queste esche sono delle esche da ricerca eccezionali che loro utilizzano per la Suzuki la spigola che loro hanno e quindi nel nostro caso in in Italia ecco sono poco e niente utilizzate ma nel momento in cui noi stiamo facendo questa classificazione è pur vero che ci sia storia di queste esche esatto anche perché comunque banalmente il bus e la spigola sono dei pesci estremamente simili collegati soltanto che da noi dalle nostre parti sono un po' più in guardia sono così stanno un po' più attenti alle esche invece dalle parti del Giappone sono un po' più come posso dire un po' più ingegni ecco ci fanno ingannare un po' più facilmente rispetto a quello che sono dalle nostre parti non mi non mi accodo a quello che stai dicendo altrimenti rischiamo di andare esatto esatto andiamo non più si concludi con le vibration ah le vibration invece sono degli artificiali sempre che di solito tendono a sondare tutta la colonna d'acqua quindi sono degli artificiali con una densità abbastanza elevata rispetto alla media degli artificiali definiti come airbates che hanno anch'essi delle caratteristiche di nuoto particolare intanto hanno l'aggancio non in posizione frontale ma in una posizione differente che vedremo più avanti sicuramente un bilanciamento particolare un'idrodinamica particolare che permette appunto all'esca artificiale di produrre delle vibrazioni lungo l'asse orizzontale poi ci sono le swing bait le swing bait che non hanno una di solito non hanno una paletta anche se sono delle esche che di solito vengono utilizzate più in acqua dolce per esempio all'uccio se non ricordo male possono essere anche delle esche snodate e di solito hanno se non ricordo male una coda siliconica di dietro che le aiuta a rendere più sinuoso più realistico che il nuoto alla fine abbiamo mi acconto giusto per dire un'informazione però questa categoria le swing bait stanno facendo un ingresso ecco a gamba tesa dello spinning in mare perché la swing bait per eccellenza è una copia in scala in scala di un un pesce dalle forme e dalle movenze molto realistiche quindi nel contesto mare eventualmente vogliamo riprodurre un cefalo un cefalotto per insidiare il serra la spigola possiamo trovare delle swing bait delle presentazioni di esche artificiali dal peso notevole cioè si parla di esche artificiali che possono raggiungere anche i 100 200 grammi di peso e i 20 30 centimetri di lunghezza poi magari nel corso delle prossime puntate magari vi faccio vedere qualche spezzone di video di come pescano i giapponesi ed è una cosa allucinante banalmente l'ultima categoria è leggi il famosissimo classico gamberettino finto quello che viene utilizzato alla pesca al cefalopode sia dalla riva che dalla barca e anche questo poi sempre senza divulgarci troppo lo analizzeremo più avanti stiamo parlando però banalmente di esche con una densità media bassissima infatti hanno delle velocità d'affondamento molto molto basse e con una massa concentrata per lo più tutta in testa sempre lo vedremo più avanti banalmente come diciamo sono semplicemente le esche utilizzate normalmente per la pesca ai cefalopodi in generale sì le classiche totalare allora andiamo avanti con la prossima categoria faccio di nuovo un salto indietro per farci un riepilogo stiamo facendo una classificazione siamo sempre nel materiale abbiamo sviscerato la famiglia delle hard baits delle esche rigide ora passiamo alle soft baits le esche morbide e anche in questo caso capiremo in che modo possono essere suddivise le esche siliconiche in quanto tali che chiamare le esche siliconiche lasciami dire è un termine improprio perché si tratta di esche in gomma che poi vengono definite solitamente esche siliconiche è tutto un mondo a parte però ecco nell'immaginario collettivo parlando di esche siliconiche si fa riferimento a queste tipologie di esche e le andiamo a definire no Mattia facciamo anche in questo caso magari parti tu anche perché pescando tu in acqua dolce avrai sicuramente una cultura perché nell'acqua salata come ben sai la cultura della gomma è ristretta tendenzialmente a poche categorie quindi per esempio magari il classico min il classico gerchettino il grabbetto di turno o la creature così o il warmetto però poi tutto il resto di solito sono tottesche che vengono utilizzate per lo più al bus fishing o comunque in acqua dolce quindi la parola lascio a te per adesso dai assolutamente sì ti ringrazio comunque in ogni caso per il discorso delle diciamo delle varie sottocategorie che fanno parte delle soft debates io ho aggiunto quelle là di largo di largo utilizzo le più comuni ma ce ne sono tante altre per esempio quelle che vengono utilizzate nel light rock fishing per un esempio cioè non si finisce più secondo me un documento e un video di due ore non basterebbe quindi una piccola selezione andiamo veloci in questo caso perché poi ormai è entrato è entrato a gambatesa pure la g fishing non si finirebbe mai quindi andiamo avanti e basta sì hai perfettamente ragione allora faccio vado veloce le creature i crow le frog i grab sono la maggior parte delle esc che vengono utilizzate nel nel bus fishing e vanno a richiamare proprio degli invertebrati come il gambero anche le rane però in tanti casi possiamo trovare delle imitazioni in gomma che sono delle creature del tutto di invenzione pura che però emettono delle vibrazioni e dei movimenti in acqua che il bus per fare un esempio oppure il predatore come il luccio il perca o la spigola identifica come un qualcosa da mangiare qualcosa che incuriosisce e quindi lo aggredisce poi possiamo trovare il classico minno che è questo che vedete qui magari in alto a sinistra che però in questo caso ha una codina paddle una codina a padella quindi anche in base alla a come è caratterizzato alla forma della coda della testa del corpo ci sono altre varianti sotto categorie veramente c'è un mondo un mondo da scoprire e per ognuna poi magari faremo degli approfondimenti anche in base al alle caratteristiche diciamo delle condizioni in cui possiamo preferire l'utilizzo di queste esche nella tecnica sia in mare in acqua dolce o in ambiente salmastro lo stesso caso troviamo lo shad che è qualcosa di molto simile al minnov che però può avere una codina a padella o essere privo di codina a padella quindi avere una codina dritta in questo caso lo considereremo come un jerk perché poi capiremo si presta anche alle jerkate ovvero a quei movimenti che noi imprimiamo all'esca durante le azioni di recupero con la nostra canna il classico colpetto laterale fatto con il polso per ravvivare l'esca e in questo caso ecco un jerk reagisce molto meglio non avendo una coda che fa un po' da attrito io ho letto qualche ho letto qualche articoletto che ha scritto Mattia sul blog di Roberto che approfitto per salutare e ecco in quello che scrive Mattia in tanti casi è così bravo ecco nel descrivere quello che solitamente noi facciamo senza badare perché nel pescatore diciamo comune dopo aver lanciato dopo aver iniziato il recupero l'azione di nuovo gli dà quel colpettino lo diamo per scontato che tutti lo sanno invece Mattia nei suoi testi nei suoi articoletti ecco ci descrive perché l'esca reagisce in determinato modo anche in forma in base ecco alla forma della paletta al bilanciamento interno quindi anche per questo ho voluto portare Mattia qua perché è davvero un pozzo di scienze che poi magari in prossimi video cercheremo di portare ecco andando avanti poi soprattutto con le hardbait c'è da parlare di molte cose perché comunque si parla tantissimo di giochi di inerzia si parla tantissimo di superfici di contatto di angoli di incidenza tutte cose che poi sommate vanno a dare quello che è l'effetto finale che noi banalmente definiamo come il movimento di un'esca o come la cercata quindi stay tuned stay tuned se vi fa piacere ok allora concludo sempre in merito ai softbait ci sono i slaghill le emitazioni di anguillina le swingbait qualcosa di molto simile a quello che abbiamo nelle hardbait le esche rigide però trasformate in con materiale morbido infine abbiamo le esche stick le esche a bastoncino i terrestri che vanno a richiamare delle creature che abbiamo su terraferma che però sono comunque predate dai nostri amici pesci infine troviamo dei trailer ovvero possono essere farci un esempio questo in alto a destra possiamo considerarlo sia grubb che però sì che però possiamo collegarlo anche ad una presentazione con una testina piombata e possiamo utilizzarlo anche come trailer quindi come qualcosa che si aggancia all'esca principale infine troviamo i tube e i warm i tube sono questi in basso a destra ne ho messo uno che è specifico dico la verità per l'utilizzo al bus qualcuno che pescherà in mare sicuramente non l'avrà mai visto e sono delle esche molto interessanti che ecco per ogni esca andrebbe fatto davvero davvero tanto tante considerazioni perché questa esca qui è particolarissima nel momento in cui la utilizziamo oltre ad avere un movimento caratterizzato anche dal punto di vista del recupero che il pescatore fa però questa esca emette una scia di bolle sott'acqua che il predatore in qualche modo segue come se fosse diciamo attratto anche dalla tipologia di vibrazioni emesse e di turbolenze concludo altrimenti andiamo fuori tema e rischiamo di allargarci troppo e poi i warm sono imitazioni del classico vermetto che possiamo trovare diciamo sia nell'utilizzo del in acqua dolce ma possiamo utilizzarlo anche magari all'interno dei porti in cerca della spigola il warm ha una funzionalità 360 gradi in tutti gli abita di pesca concludiamo con le schie metalliche io ritorno di nuovo alla slide giusto per sempre il classico riepilogo siamo parlando della classificazione materiale nel materiale siamo in questa categoria la famiglia ecco quello che trattiamo adesso è quella dei metal e anche in questo caso lascio la parola a Mattia abbiamo un ulteriore sottocategoria anche per questo io diciamo ci tenevo a suddividere questa categoria perché ce ne sono davvero di tanti modelli che caratterizzano la nostra azione di pesca e la rendono quasi unica quindi non è possibile assimilarli associarli alla categoria genetica delle hardbait no Mattia esatto in realtà addirittura queste sette categorie sono riduttive perché per esempio abbiamo messo al primo posto il casting jig il casting jig che è il classico gighetto che noi utilizziamo da terra perché è facile da lanciare perché ha un bilanciamento tendenzialmente posteriore eccetera eccetera abbiamo messo il vertical jig quello che tendenzialmente va utilizzato in batimetriche molto alte e soprattutto viene utilizzato appunto dalla barca in verticale abbiamo messo il long jig che quindi è un metal jig o comunque un'esca metallica la quale caratteristica principale a livello fisico è essere molto lunga e tendenzialmente sfinata gli slow gli slow che hanno come caratteristica principale l'essere asimmetrici poi anche qui c'è tanto da spiegare sul fatto di simmetria asimmetria di un'esca tanta roba davvero poi abbiamo gli spoon che sono i classici cucchiaini perché spoon in inglese vuol dire letteralmente cucchiaio lo spoon che tra l'altro credo essere forse la primissima esca artificiale di cui si ha notizie a livello storico non durante sì finora anche di alcune tribù indiane che pescavano con queste sorte di cucchiaini metallici che andavano a sfarfallare in acqua il vibe che in realtà sto vibe mi ricorda qualcosa sì perché prima negli hardbates abbiamo parlato di vibration lure di queste esche che scendono a fondo e emettono queste vibrazioni ecco la stessa esca se è fatta interamente di metallo allora si andrà a mettere all'interno della categoria dei metal sotto il nome di vibe è la stessa cosa ma di un materiale differente quindi è sempre una vibration lure ma totalmente in metallo quindi avrà la caratteristica ovviamente di affondare molto più rapidamente di toccare più velocemente il fondo di essere più lanciabile definiamolo così e quindi eventualmente di poter essere utilizzate in condizioni di corrente più elevata rispetto a quello che può essere una vibration il diamond jig invece è quello che originariamente stiamo parlando un bel po' di anni fa veniva utilizzato come erano i primi metal jig questi metà questi piombi che inizialmente erano questi piombi un po' sagomati molto spigolosi che venivano lanciati in Giappone inizialmente a surfcasting perché lo short jigging per come lo conosciamo oggi nasce in Giappone dai surfcaster che volevano provare a beccare questi pesci con queste esche finte non sono nient'altro che questi metal jig che sono molto spigolosi appunto diamond quindi con questa forma un po' diamantata servono a produrre molti bagliori luminosi ecco ho voluto inserirli scusami se ti rubo la parola ho voluto inserirli in questo diciamo in questo catalogo se così si può definire delle di sottocategorie perché come hai detto tu i diamond jig che vengono comunque ancora tuttora utilizzati in America in cerca degli striper che sono le spigole atlantiche sono esche che hanno fatto un po' la storia come lo spoon sono gli antenati dei nostri casting jig di largo consumo e conoscenza che abbiamo tutti ma non tutti sanno cos'è il diamond jig diamond jig e poi magari anche in questo caso ne approfondiremo un po' i dettagli e capiremo in che modo viene utilizzato perché faccio una piccola parentesi in questo caso vengono utilizzate anche con dei trailer possono essere utilizzati anche con dei trailer in gomma per aumentare ancora questa siniosità quindi mettono vibrazioni emesse dall'esca siliconica vibrazioni emesse dal diamond jig e bagliori che emette il diamond jig è ben fuori un'esca micidiale per da utilizzare anche in condizioni magari di mare molto mosso dove davvero le altre esche canoniche di largo utilizzo che abbiamo qui abbiamo fatto un breve epilogo prima non possono essere utilizzate perché non avrebbero modo di riuscire a notare correttamente sì sì unica cosa che volevo aggiungere che esattamente come abbiamo elencato il long jig il metal jig si divide in altre categorie codipendenti al rapporto tra la lunghezza e le altre caratteristiche fisiche del metal jig quindi esistono i short esistono i semi long esistono i long jig come abbiamo visto poi esistono i front drop esistono i casting esistono appunto gli asimmetrici frontali e gli asimmetrici posteriori questo appunto ne parleremo sicuramente esiste già un bel articolo tutto aggliendato sull'effetto deadlift che già potrebbe essere un ottimo aiuto per chi magari vuole incominciare ad approfondire però esattamente come abbiamo detto anche il diamond non è che è un tipo di metal jig soltanto anche il diamond si suddivide in long semi long short slow fast casting perché comunque anche il diamond il diamond altro che altro non è che una linea estetica che stiamo dando al nostro metal jig ecco tutto qua esatto ogni volta che abbiamo una finestra ci rendiamo conto che c'è il mondo dietro il rischio di andare fuori con il testo è molto alto il rischio di noi eravamo partiti con un video di 10 minuti massimo un quarto d'ora allora concludiamo andiamo avanti questo è un periodo di quello che abbiamo detto prima c'è lo spoon a destra sotto troviamo il vibe metallico e sopra c'è un casting jig questa è una forma molto molto interessante e particolare che Mattia conosce molto bene è l'asami casting in una forma semplicissima appunto non si vede da qui però questo è il classico casting jig che appunto ha in coda è bombato leggermente in coda e quindi ci permette di essere lanciato molto molto lontano e poi ci permette anche di sondare bene eventualmente il fondale questo poi lo vedremo quando parleremo appunto nel dettaglio dei casting jig delle varie sottopategorie ottimo andiamo avanti con ecco un'altra famiglia un'altra famiglia la famiglia di tutto tuo dei dei Wild Bates sono delle delle esche che praticamente sono costruite da un filo da un filo metallico no? quindi andando per quelle più conosciute magari chi le utilizza in acqua dolce sa bene cosa è il rotante però il termine diciamo corretto potrebbe essere o cucchiaino come tanti definiscono oppure meglio ancora spinner il classico Martin il classico Maps e questo ho fatto una jpeg rappresentativa qui a sinistra per andare avanti troviamo lo spinner bait il buzz bait e che di cui metto una foto giusto per rendere meglio l'idea di cosa stiamo parlando che vengono maggiormente utilizzati in in acqua dolce soprattutto per tecnica del buzz fishing così come anche il chart bait che è questo che trovate al centro di questa jpeg anche in questo caso faremo degli approfondimenti in seguito non vi vogliamo dare in pasto tutte queste informazioni una volta altrimenti apro e chiudo parentesi apro e chiudo parentesi molto rapida piccoli cucchiaini spesso venivano utilizzati o meno ricordo me lo diceva mio nonna cosa succedeva anni fa per la pesca al cefalo in acqua salata assolutamente assolutamente sì quindi hai visto ogni volta che parliamo di un esca vengono in mente mi hai ricordato questa cosa che produva la bambina esperienze personali esperienze acquisite tramandate concludiamo l'ultima famiglia ma non per questo meno importante anzi è una delle famiglie che racchiude davvero davvero tanti piccoli mondi a parte è quello delle esche ibride ovvero delle esche che sono realizzate mettendo insieme diverse tipologie di materiale facciamo un esempio come parliamo del andiamo per ordine parliamo del jig minov che praticamente è un pescetto con un'anima interna potrebbe essere definita ecco rigida come il jig classico metallico ma contornato esternamente da un involucro da una una buccia ecco morbida e in tante occasioni poi magari la prossima volta ve lo farò ve lo farò anche vedere possiamo anche modificare sì possiamo anche modificare la parte ecco plastica di questo jig per dargli un'inclinazione differente e creare dei movimenti sempre nuovi in merito anche alle escribili troviamo i tie rubber gli i 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 la bura tutti i 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 stanno permettendo la diciamo la cattura di tipologie di pesci che fino adesso era stato possibile catturare soltanto con tecniche alternative come il volentino oppure la traina con il vivo e invece tutte queste esche di recente introduzione che stanno aprendo ecco un mondo nuovo a tanti appassionati di pesca stanno portando sul mercato anche attrezzature dedicate come canne mulinelli fili e quindi racchiudere queste esche come e rappresentare come il classico gig non avrebbe più senso e quindi questa famiglia delle esche ibride è quella di diciamo dal punto di vista temporale più recente ma con delle innovazioni davvero davvero interessanti tra l'altro parlando sempre rapidamente di tarabber in cico eccetera sono anche delle esche artificiali che per quelli che non si definiscono dei puristi delle esche artificiali spesso permettono di essere accoppiate ad esche naturali metti per esempio vinci con un pezzettino di calamaro o addirittura i tai rubber che vengono utilizzati per movimentare la seppia morta il calamaro morto in verticale dove spesso sono micidiali sì in effetti la mi aggiungo una considerazione nel momento in cui noi utilizziamo queste esche come il tarabber in cico il kabura intendiamo un'esca da utilizzare senza l'appendice delle strane naturali nel momento in cui invece gli mettiamo non solo la siccità di calamaro il gambero la diciamo stiamo facendo un'altra cosa magari tenia che però ecco rischi anche di snaturare l'esca per questo da progettata e quindi anche in questo caso stiamo andando il preambo eccetto i puristi del della pesca con gli artificiali sì concludo giusto il panorama dell'esca per troviamo il gig piumati i classici backtail possiamo trovare dei cucchiaini gli spoon con un piccolo trailer per esempio gli ondulanti a cui inneschiamo un group fanno parte di questa famiglia o allo stesso modo possiamo trovare le tessine piombate con dei dei siliconici annessi e anche in questo caso in alto a sinistra vi faccio vedere il classico pescetto che ecco va meglio a identificare questa categoria di dischi artificiali il black minov che tutti quanti ormai conosciamo a seguire posizione numero 8 e numero 9 non per questo meno importanti e solo perché in una classificazione qualcosa avviene prima qualcosa viene dopo prima o poi è normale ecco troviamo il gig head praticamente la tessina piombata a cui possiamo annettere un'imitazione di calamaro di seppia o squid e queste ische vengono utilizzate nel deep soft bait praticamente questa nuova tecnica verticale in cui ecco si sta facendo un grande grande spazio tra tante altre tecniche verticali soprattutto per l'efficacia in conclusione invece troviamo il nego short jigging perché comunque ormai queste gig head più squid hanno contestine piombate un po più piccole quindi con teste piombate da 60 70 grammi sta venendo utilizzato parecchio anche nello short jigging sta dando parecchi risultati per dentici eccetera eccetera esatto perché è una categoria di esche che ci permette di sondare quegli strati più profondi che fino adesso era difficile andare a sondare in modo più approfondito per cui nel momento in cui vengono realizzate queste nuove ehm esche artificiali eh si aprono tanti mondi e tante possibilità di caratterizzare maggiormente la nostra azione di pesca e e in questo caso ecco per metterci anche delle catture che fino a poco tempo fa erano impensabili come catturare ad esempio un dentice da riva eh una cernia quindi a seconda anche dello spot dove andremo a pesca ehm meglio potremmo scegliere la tipologia di esche da utilizzare eh concludo ehm con il basse jig che è praticamente una destina piombata questa a destra per intenderci una destina piombata con eh la presenza o meno di un anti alga a cui viene annessa questo corpo con eh l'amo nascosto tra di esso che è realizzato in in gomma tendenzialmente in gomma materiale elastico ehm andando avanti ci si accoppia un grab o un trailer di solito se non ricordo male allora ci sono diverse tipologie di di scuola di pensiero eh in parecchie occasioni viene utilizzato così come fatto in altre invece gli possiamo mettere un grab gli possiamo mettere in imitazione di gambero che eh rende molto in alcuni contesti dove ecco c'è la presenza di gamberi eh oppure addirittura viene utilizzato come testina da annettere a uno shad esatto nessuno ci pieta eh oltre a diciamo abbiamo fatto un'esposizione delle categorie principali ma nessuno ci pieta eh ci pieta di inventarne di nuove esatto allora per fare un breve riepilogo ritorno alla slide principale la classificazione abbiamo fatto tutti eh abbiamo elencato tutto le famiglie eh appartenenti ai diversi tipi di materiale e ora invece facciamo la caratterizzazione per tipologie di eh affondamento in questo caso eh possiamo trovare eh tre categorie eh principali nel dettaglio troviamo ehm faccio un piccolo break sul powerpoint tre categorie di eh di affondamento principali le floating sinking e suspending anche in questo caso purtroppo si tratta di inglesismi ma eh per traduzione floating vuol dire galleggiante sinking affondante e suspending per quanto riguarda le esche floating quelle galleggianti che che tipologie di esche sono sono tutte quelle tipologie di esche che nel momento in cui noi lanciamo iniziamo il recupero tendono a portarsi nella fascia d'acqua per cui sono state progettate anche mh in base alla tipologia di paletta l'inclinazione il peso proprio dell'esca ma nel momento in cui noi fermiamo il recupero no Mattia che cosa succede? Sì in fase statica tornano a galla tornano a galla e quindi tutte le esche che possono appartenere alle diverse famiglie si suddividono comunque per le caratteristiche del fondamento ehm mentre se eh nel caso stiamo pescando con esche sinking eh nel momento in cui noi la lanciamo in acqua tendono ad andare nella eh fascia d'acqua quando iniziamo il recupero no per cui sono state progettate quello qualcosa che succede anche all'esche floating ma nel momento in cui noi fermiamo il recupero tenderanno ad affondare il sospending invece è uno stato fisico un po' più complesso da raggiungere perché appunto è uno stato uno stato fisico di sospensione no in cui c'è un equilibrio tra le forze che agiscono sull'artificiale in quel caso come detto prima recuperiamo l'artificiale l'artificiale si va a mettere eh sullo strato d'acqua eh all'interno del quale è stato progettato di dover stare quindi per esempio affonda per via di una paletta eccetera eccetera nel momento in cui ci fermiamo resta nelle prossimità di quella di quell'altezza della colonna d'acqua ehm questo banalmente sono i tre stati principali poi sappiamo bene che ci sono degli stati intermedi queste velocità di affondamento che vale quindi ci sarà il floating ci sarà lo slow floating quindi il galleggiante quello che galleggia ma galleggia un po' di meno poi il suspending che resta tale poi c'è l'affondante poi c'è quello che affonda un po' di meno quello che affonda un po' di più quindi sarà slow sarà fast sarà extra fast e piccola parentesi queste velocità di affondamento sono relative alla categoria principale di appartenenza perché un art bait eh fast sinking sarà comunque più lento ad affondare rispetto ad un metal jig slow sinking queste sono cose che sono dei tecnicismi che però vanno conosciuti esatto perché eh quello che conta tanto in in questo contesto ehm è la eh il materiale di cui è composto di che è composta l'esca ehm quindi il peso specifico ecco perché il suspending l'esca suspending rimane sospesa poi c'è da fare anche una differenziazione nell'utilizzo in acqua dolce e in acqua salata perché sappiamo bene che ehm c'è un di una differenza di peso specifico delle tipologie di acqua dovute alla eh salinità per cui eh sono le anche la temperatura ma poi dopo la dico io una cosa rapida e veloce vai 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 non solo questo dobbiamo considerare che la freccia che utilizziamo a spinning e floating e galleggiando quindi tenderà a portare l'esca sempre in superficie e questa è una cosa che si aggiunge no all'equazione oltre a questo va aggiunta anche eh un discorso di idrodinamicità un discorso di bilanciamento delle masse quindi lo stesso artificiale per esempio no eh in posizione orizzontale può essere suspending se invece si sbilancia e si mette in posizione verticale può affondare ma come non è uguale non dipende dalla densità eh ci sono tante tante variabili da considerare in mezzo però magari le possiamo approfondire successivamente quando eh andiamo a guardare le cose nel nel dettaglio intanto vi resta così oppure che si si è vero aggiungo solo una cosa poi cambiamo eh argomento eh perché cosa succede a volte negli artificiali un po' più datati magari quelli che abbiamo utilizzato per per più tempo quelli là un po' più vecchiotti per intenderci eh succede che a volte le sferette interne del bilanciamento stesso dell'esca tendono a posizionarsi eh o in coda o in testa non scorrono più all'interno dell'esca per bilanciarla uniformemente e quindi che cosa cosa può succedere può succedere che nel momento in cui l'esca è nata su spending ma le sferette non si distribuiscono lungo il corpo dell'esca per bilanciarla correttamente nel caso in cui anche per vecchiaia perché magari ha preso qualche colpo l'esca sono tante le le modalità con cui possiamo rompere un'esca eh ecco nel momento in cui si posizionano tutto in un lato la sbilanciano e quindi un'esca che poteva essere eh come tipologia su spending diventa eh in qualche modo si sinking no? Esattamente quello che dicevo sul bilanciamento no? Un'esca orizzontale può essere sospending invece quando si mette in posizione verticale per qualunque motivo può diventare sinking perché c'è poi tutto un discorso di idroninamicità lì va considerato quello che in gergo si chiama velocità limite di un corpo eh in caduta libera in un fluido che è un po' quello che succede ai paracadutisti immagini il paracadutista che eh prima di aprire il paracadute si mette appunto come come succede nei film si mette eh in posizione orizzontale a gambe braccia legate scende ad una certa velocità invece quando si mette disteso perpendicolare va più veloce no? È uguale identico cioè il corpo è quello cioè la densità è sempre quella cambia la superficie che offre al al fluido in caduta libera questo poi lo vedremo poi dice perché hai hai fatto venire Mattia qua eh proprio per questo ha fatto un esempio allora eh ritorniamo ritorniamo seri e ritorno di nuovo alla nostra slide principale giusto per farvi rendere conto il percorso che abbiamo fatto classificazione eh ora siamo ecco nell'ultima parte parliamo del rattling che cosa che cosa vuol dire eh l'esca rattling perché è è una caratterizzazione fondamentale di questa esca allora la presenza o l'assenza nel corpo dell'esca artificiale di una camera sonora eh che noi definiamo rattling eh ci fa ehm categorizzare se così posso definire questa questa cosa eh l'esca in due tipologie o rattle quindi con il rattling o silent quindi ehm la presenza o meno di questa questo è un esempio eh classico no di un sistema rattling per farvi rendere conto sono eh delle piccole sfere eh che vengono in inserire sfere che possono essere di diverso materiale ne possiamo trovare in piombo o in tungo steno ma anche in vetro quindi queste sferette messe all'interno dell'esca artificiale eh tramite questo sistema o direttamente nel corpo dell'esca quindi le sferette battono direttamente tra le pareti eh dell'esca che possono essere nella maggior parte dei casi plastiche emettono delle sonorità e ehm che possono scaturire nel pesce ehm diverse considerazioni ecco ehm possono scaturire diverse reazioni scusate ehm tuttavia quello che vogliamo soffermarci ora a a considerare è che l'esca può essere o rattolo o silent poi magari nel nel dettaglio ne potremo parlare ehm per capire meglio quando è utile utilizzare un'esca rattling quando è utile magari preferire un'esca silent no Mattia ci sono davvero tanti parametri da considerare queste sono tutte cose che possiamo esplorare più avanti volevo banalmente dire quello che è l'etimologia del termine rattling no perché per chi è come me che è cresciuto a pane e fumetti quando è un ragazzino la prima cosa che penso con il rattling è come dicevo prima deriva da rattol che è un'onomatopeica utilizzata nel mondo fumettistico quando quando c'erano le mitragliatrici che sparavano quindi anche lì è capito quindi rattling deriva da questo onomatopeica utilizzata nei fumetti rattolo 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 questo già ci fa capire no questa vibrazione questa questa mitraglietta sonora è un'altra cosa e abbiamo parlato di sonorità e c'è in realtà il rattling probabilmente chi ha inserito il rattling per le prime volte in un artificiale l'ho fatto totalmente a caso poi ha capito di averci azzeccato ci sono diversi studi che dimostrano che il linguaggio dei pesci avviene attraverso questo quello che noi chiamiamo rattling infatti sono ci sono diverse registrazioni molto strumenti molto particolari che cercano poi grazie anche a dei software di escludere tutte quelle che sono le vibrazioni di fondo dei degli strumenti umani tutto quello di inquinamento e alla fine resta quello che è il linguaggio dei pesci il linguaggio dei pesci avviene esattamente tramite queste vibrazioni di rattling poi in base alla frequenza in base alla lunghezza d'onda eccetera ci sono delle vibrazioni che indicano un pesce la comunicazione tra un pesce con un altro la il segnale acustico di un pesce ferito ecco quello che stiamo andando a fare letteralmente con il rattling è parlare comunicare con i pesci che attraverso la linea laterale vanno a decifrare col suono nel caso del rattling degli artificiali cosa deve dire il suono che stiamo mettendo deve dire ma 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 sto male mi sento male sono un pesce ferito sono un pesce che ha dei problemi quindi il routing e ha tutti gli effetti un linguaggio di comunicazione non è soltanto la sferetta che sbatte nella camera nella camera vuota quindi definiamo cioè se a noi come sempre le cose a noi spesso in maniera puramente empirica sembrano delle banalità ma in realtà c'è un background scientifico non indifferente stiamo letteralmente parlando con i pesci stiamo comunicando con i pesci c'è chi ballava con i uvi ma parliamo con i pesci sì come hai eh giustamente detto eh i pesci assimiliano assimiliano eh quindi eh avvertono queste sonorità tramite la linea laterale che funge un po' lontanamente dal nostro come il nostro orecchio funziona più o meno come il nostro orecchio no per intenderci eh tuttavia la presenza o meno del rattling all'interno di di un'esca può eh far reagire il pesce in diverso modo in alcune in alcune circostanze magari con pesci che siano più lontano oppure con in presenza di acqua turbida eh forte corrente eh turbolenza in mare se stiamo pescando nel sottocosta eh richiamano maggiormente all'attenzione il pesce che lo avverte distintamente in altri in altri contesti però magari lanciando un escarattling proprio nelle immediate vicinanzi di di un predatore può caratterizzare anche una reazione totalmente differente da quella che noi ci aspettiamo inducendolo magari alla fuga questa qua è una cosa da da considerare e aggiungo giusto per concludere che in tante tipologie di esche artificiali dedicate alla seppia e al calamaro eh ultimamente stanno arrivando sono arrivate sul mercato delle esche delle totonare degli eggi eh usiamo il termine tecnico degli eggi sound ovvero degli eggi che all'interno hanno la presenza di queste sferette che eh da quello che si può dedurre dalle case produttrici diciamo quelle che hanno studiato per bene il prodotto sono riuscite a richiamare delle ehm delle sonorità molto particolari a delle ehm vibrazioni ecco delle delle sonorità molto particolari ehm per cui vengono identificati maggiormente anche dal dal cefalopode non solo dei pesci che che lo sappia il cefalopode non ha linea laterale ma comunque riesce ad avvertire e io personalmente un po' di differenza in particolari condizioni di acqua turbida per per fare una eh un mio una mia personale esperienza oppure magari nei cambi di luce quando non c'è mh molta luminosità in acqua usare un esca un eggi rattol ha delle potenzialità maggiori anche verso eh i cefalopodi c'è da dire che può avere anche delle controindicazioni però non siamo qua a parlarne perché se no non concludiamo più è vero è vero ehm allora noi abbiamo identificato eh con il nostro documento con la nostra linea guida eh brevemente mh se si può dire brevemente brevemente perché ci sarebbero tante tante cose da dire quella che è una classificazione delle esche artificiali abbiamo parlato delle famiglie delle caratteristiche più importanti ma ce ne sono tante altre che non abbiamo aggiunto come tu mi facevi ehm eh diciamo presente la scorsa volta che ci siamo sentiti anche la presenza e la tipologia di eh spostamento interno della pesistica potrebbe far nascere ancora un'altra categoria però per non allargare troppo il discorso e magari complicare troppo le le informazioni da chi si sta avvicinando a questa tecnica magari di queste altre tipologie di esche artificiali di queste caratterizzazioni ne parleremo approfonditamente ultimamente no Mattia? Eh sì direi di sì. Ok ok allora per me è il momento di di fare i nostri saluti se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ehm di Planet Spin e anche il canale di Mattia magari di Roberto perché io non ho un canale ma è il caso di che tu ti inizi a creartelo eh perché davvero sei un un pozzo di informazioni a cui diciamo il pescatore internauta può attingere per crescere e migliorarsi eh per cui dal punto di vista mio vi posso dire collegatevi sul sito www.robertoaccardi.com dove c'è la sezione spinning se vi piace leggete i miei articoli eh ed eventualmente per qualunque cosa andatemi a cercare su Facebook Instagram banalmente Mattia Famoso mi trovate immediatamente ok perfetto lasciamo tutti i contatti e riferimenti in descrizione e noi ci vediamo il prossimo video non dimenticatevi di commentare l'articolo suggerendoci anche le vostre considerazioni in merito lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin e ringrazio Mattia per la sua grande grande utilità ciao ragazzi alla prossima ciao belli